ciao ragazzi nuovo video unboxing qua muoiono tutti i pesci poverini non so il perché nuovissimo video unboxing che cos'è arrivato questo qui dei cavi muscoli eternet che mi servono sia per il per in auto ip e poi per un'altra cosa sono davvero piccolissimi ragazzi è vero piccolissimi ci sono rosso vedi blu e grande e nero pagati 8 euro sono del cavi ethernet 3 cm ci vediamo nel prossimo video